Ehi! Menni Menni! Ehi! Menni Menni! Menni Menni! Questa è il camioncino di Menni Menni! Ma parla questo camioncino! Mello, mettiamoci al lavoro! Mettiamoci al lavoro, eh! E forse! Mettiti al lavoro! Dovremmo controllare il motore! Aggiustiamolo insieme! Controlla il motore! E ti senti a rimuovere i bulloni! Controlla i bulloni! Ah? Controlla il bullone! Il motore! Ti sei nato, tate scaramento! Togliti così! C'è la con me in bocca! Giro! Non è che se gioca così! Quello è un garage! Ma che stai facendo? E' qua! Ma che stai facendo? Ma che stai facendo? No! Tate! Ah si accende qua! Ha ragione! Ingegnere! Ingegnere ha ragione! Si accende! Ma che è attire! Non ci sono le batterie? No! Le dobbiamo comprate? Sì! Sì? Vabbè! Il camioncino di Manny Manny Un regalo del Natale scorso Non so nemmeno come si accende Se lo sa presto Un regalo di Manny Manny Maschi! Spostì! Basti.